muffins cioccolato mamma ferma è buono buonissimo allora oggi piero prepara una ricetta buonissima con la ricotta vero una vaschettina di ricotta da 100 grammi metto la dentro la ciotola bravissimi una vaschetta piena di zucchero vai quanto hai messo di zucchero una vaschetta si mezza vaschetta d'olio basta basta si ok schiaccio un pochino la ricotta due vaschettine piene di farina e mezza vaschetta d'acqua ecco questa è la consistenza ma due cucchiaini di lievito per dolci uno e due ed eccole qua pronti i nostri muffins mamma mia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti